Ciao ragazzi, a presto schizzo Kevin Owens come CM Punk Perché dico così? Perché nella puntata di SmackDown Kevin Owens contro Adela Rui Contro Shane McMahon Che si fa chiamare Best in the World Ha aiutato pure Roman Reigns Ha fatto una bella stunner La Shane che voleva intervenire nel match Conto Love Tigre Grande Kevin Prendere un po' di questa situazione Secondo me Kevin Owens Lascerà Molto probabilmente Lascerà a Radar Rui la compagnia Molto probabilmente Andrà alla APU O alla Japan In Kevin Owens che quando è tornato Senza motivo Al titolo ha provato come Senza motivo altre persone hanno provato a prendere il titolo Non so perchè La Mojo è una faida costruita così Ma quella Ne parlerò in un altro video Perchè Ci sto capendo più di niente sinceramente Vederemmo se Vederemmo se Farà proprio come si M-Punk E se Andrà a Radar Rui E Andrà a La APU Comunque la APU è un buon progetto Ho visto Mi sono piaciuto Mi sono piaciuto i match Mi sono piaciuto Mi è piaciuta la sediata Del ex Di Nevers che tirà fuori Una seggiola tutta piena di Come si dice Dei cosini Di ferro spinato E ha fatto un match straordinario Spero che questo video vi sia piaciuto Se non mi piace Un commento Scrivetevi Se secondo voi Se secondo voi Che me lo vuole Andrà in AABU Ci vediamo alla prossima Ciao Ciao